Continua il ricordo a Napoli di Pino Daniele, l'impegno dell'amministrazione e di tantissimi artisti per Pino. Sarà una serata straordinaria, un ringraziamento a tutti gli artisti che con generosità parteciperanno. Il coordinamento di Nello Daniele, l'impegno di Enzo Avitabile e di tanti altri. Sarà una serata bellissima, organizzata da noi. L'accesso sarà gratuito e bisogna acquistare i biglietti partendo dalle ore 11 dell'11 marzo sul sito del Comune.